Tadessimo Ok ok, ci c'è qualcosa di più ciecawego? vediamo stanno, a, 139%, ok, 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 ok ok, qui c'è qui c'è questo? Right, ok, ok to, c'è qualcosa di tutto Sprezzamento Blablabla Tu è una scritta Nice Ok Tu è questo Ok Ok Sprezzamento Potreremo Potremmo Potrebujemy Potremmo Potrzebujemy Potrzebujemy Potremmo 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 non 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 c'è bisogno che ci sono bisogno che ci sono bisogno c'è bisogno di più il materiale non stierdzono tifoni non ci sono ok, ci sono 300 ci sono anche un peggio è un peggio ma è tutto ciò che vogliamo è un peggio è anche un peggio ma è un peggio notatica è un peggio è un peggio ok ci sono delle sui è tutto è un peggio non ci sono non ci sono è un peggio è un peggio è un même strzelbo è una ok tutta ci è tu non c'è più neanche, ok tu non c'è più no, sì non c'è più no, io voglio, non c'è più no, io voglio, non ... Uwaga, sviluppo zagroženio pozorowe. Otro. Chcega! Co tu jest? Zakichane mim! tu nic nie ma, dobra. Sì, sì, sì. ok, abbiamo fatto un pollo abbiamo fatto un pollo qui ci sono un pollo eee i eee tu sono le cose e ho le persone anche il compagno ci sono le cose i non ci sono le cose e lo che ci sono e lo che ci sono e lo che ci sono mhm dobra chiede fuori che Neuromod 1, ma sempre ci sono qualcosa Dobra, ile mamy teraz tych neuromodów? 3 aż miały 3, a potrzebujemy 4, żeby drugiego poziomu Wpakować, dobra Szukamy dalej Ciekawych rzeczy Przetwarzał po prostu wszystko, co się da Nie, tu nic nie ma Mam czwarty neuromod, zarąbiście, dobra Odrazu to wpakujmy I teraz potrzebujemy 8, stricte 8 Potrzebujemy Tu jest pierwszego, więc nie Nie, bo tu nic więcej nie ma I teraz tak Ok Nie zastrzewa Buteleczka, co tu jest? Zarządniki tyfona Noise, noise Ale co tu jeszcze są? Zarządniki tyfona Co mamy tutaj za misję poboczną? Jakby nie patrzeć Zalep Mim elektryczny Uwaga Wykryto zagrożenia pożarowe Sherlock się znalazł Może zresztą nie Może zresztą nie Lecz Dobra Kolejna teczka Kolejna teczka Dobra Kolejna teczka Kolejna teczka No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. il nostro obrò è il nostro obrò di più Sì, scusiamo. Sì, scusiamo. Ok, scusiamo. Ci sono delle cose. Sì, scusiamo. 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 Oh, guarda! Oh, guarda, guarda. Oh, guarda. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.